Saione era una criticità, oggi è in massima parte una opportunità e ha dimostrato come attraverso progetti di relazione di rete si possa trasformare dei momenti di difficoltà in momenti di forte resilienza. Si chiama Visioni di quartiere ed è un progetto ampio ed articolato che ha come obiettivo quello di rafforzare la rete educante a Saione. Al centro del progetto, risultato ai primissimi posti del Bando 2021 Educare in Comune del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, è la scuola 4 novembre con i suoi plessi che sono un riferimento culturale e sociale. È un progetto che nasce dal lavoro di tante associazioni, delle scuole del quartiere di Saione, del comune di Arezzo che è capofila, ma mette un po' a regime tutte le azioni per trasformare il quartiere di Saione in una comunità educante, quindi in un insieme di persone che si prendono cura dei bambini. Il progetto comprende due azioni principali, la costruzione di un progetto di mobilitazione e ricostruzione della comunità ed educazione alla sostenibilità secondo i principi dell'Agenda 2030, al via anche azioni concrete che coinvolgeranno attivamente le famiglie, incontri formativi e informativi, il piedibus, il consiglio dei ragazzi, ma anche percorsi educativi alla sostenibilità ambientale, al rispetto delle differenze sull'autonarrazione ed infine incontri di coprogettazione. Come Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta partecipiamo molto volentieri a questo progetto occupandoci soprattutto degli aspetti legati alla mobilità che è il nostro argomento di elezione, perché pensiamo che una mobilità dolce come quella ciclabile e piedonale rivesta anche un importante contributo alla socialità, alla conoscenza del territorio e quindi un contributo anche all'inclusione. Teatro come strumento, strumento per aiutare ermeneuticamente i ragazzi che appunto faranno parte dei vari laboratori che come Libera Accademia del Teatro faremo all'interno del progetto Visione di Quartiere, questi ragazzi avranno l'occasione di aiutare anche noi a vedere il quartiere attraverso i loro occhi e quindi con una narrazione del tutto originale che verrà poi presentata al termine del percorso.